Nel sistema dell'emergenza urgenza del 118 riveste un ruolo importante il servizio di eli soccorso per i trasferimenti che si rendono necessari quando il fattore tempo è determinante per salvare delle vite. In Puglia la situazione è a macchia di leopardo. Nel territorio murgiano il servizio viene garantito presso l'eli superficie dell'ospedale ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle Ponti, dove si è svolta un'ulteriore esercitazione per testare continuamente l'efficienza del servizio. Il Miulli è dotato di una superficie a norma per l'eli soccorso e sono già numerosi i voli effettuati per i trasferimenti. Presso l'eliporto del Miulli è attivo un polo formativo di eccellenza e negli ultimi giorni si è tenuto un corso teorico e pratico sul servizio antincendio a cura dell'associazione dell'eli soccorso Eli Aime. Ben diversa invece la situazione presso l'ospedale della Murgia. Esiste un'eli superficie costruita insieme alla megastruttura ma tale piattaforma non è a norma e non viene utilizzata. La zona infatti è esposta a dei forti venti ed occorrerebbero delle barriere di contenimento e di protezione. Inoltre la stessa superficie risulta fessurata. Si sono ottenuti dei sopralluoghi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza ma ad oggi non c'è stato ancora alcun utilizzo.